Siamo all'interno dello stand Ambienti Più, qui a Externa. Questa azienda di cosa si occupa e quali sono i prodotti di punta? Noi siamo specialisti nell'arredamento esterno, quindi mobili da giardino per terrazzi, balconi, giardini, strutture ricettive, hotel, bar, ristoranti, tutto quello che riguarda l'ambiente. Abbiamo qui in fiera uno stand come tutti gli anni precedenti, siamo presenti qui in fiera con le collezioni 2019, presentiamo una vasta gamma di arredamento per giardini. In particolare quest'anno stiamo presentando una nuova linea in alluminio, poi c'è una nuova linea anche in alluminio e tech, una collezione in tech di classe A, con i colori di tendenza di quest'anno. Poi abbiamo anche delle coperture, abbiamo delle soluzioni d'arredo molto carine, molto sobrie, minimaliste, quello che il cliente oggi chiede per la villa e per la struttura privata. La seconda utenza in particolare è quella dei bar, hotel, ristoranti, quindi strutture ricettive, strutture che fanno business con l'accoglienza. Abbiamo delle proposte molto intelligenti, molto interessanti che spaziano dalla sedia al tavolo per esterno, l'ombrellone, l'ombrellone multiplo, set con sgabelli, sedie, tavoli, tutto quello che riguarda l'accoglienza, la comodità del cliente all'esterno per queste strutture. Noi siamo come sempre a Racale, in provincia di Lecce, sulla superstrada che collega Gallipoli-Leuca, quindi la statale 274. Lì abbiamo la sede centrale e il megastore, il negozio più grande su due piani. Inoltre da tre anni, proprio in questi giorni, abbiamo inaugurato il terzo compleanno, abbiamo aperto un negozio qui a Lecce, un concept store. La novità di quest'anno è che per la fine di aprile, proprio tra poche settimane, apriremo anche a Maglia. Grazie.